Ha ucciso la moglie, Michaela Gavril, rumena di 35 anni, e la loro coinquilina polacca, Enrica Piaciuska, di 38. Poi si è diretto alla stazione della metropolitana Imperatore Federico, prima di lanciarsi sui binari nei pressi della Galleria Giaccheri e di essere travolto e ucciso dal treno. E' accaduto ieri pomeriggio a Palermo, al duplice omicidio che si era consumato in un appartamento al quinto piano di via Vincenzo di Marco 19, prima che Gabriel Dumitru, anche lui rumeno di 35 anni, decidesse di suicidarsi, però si è risaliti solo in serata, nel corso delle indagini da parte della polizia, proprio in merito al suicidio dell'uomo avvenuto nel pomeriggio nella Galleria Giaccheri. Prima di togliersi la vita, Dumitru ha sfigurato e ucciso la moglie con un'ascia, poi ha soffocato l'altra donna con un sacchetto di plastica. Stando alle prime testimonianze raccolte, Enrica Pieciusca viveva nel palazzo da quattro anni, mentre Michaela da due e dividevano l'appartamento per risparmiare. I vicini del portiere dello stabile parlano di persone tranquille che non avevano mai manifestato alcun problema. Io ho sentito, l'ho spiegato poco fa al dirigente, un rumore sordo, un tonfo. Verso che ora? Dieci e mezza, undici, ma non un quarto circa, di stamattina, sì. Lei abita? Accanto all'oro. Ah, proprio quindi al quinto piano? Sì, sì, accanto all'oro. Non si ha sentito urla, non ha sentito nulla? Assolutamente no. La ragazza di sopra, anche perché la mia casa, diciamo la zona notte è distante dal loro, non si avverte il rumore. Le conoscevo, ripeto, condividevamo solo l'ascensore. Persone molto graziose, solare, pacifiche, non posso dire nulla assolutamente. Devo dire delle persone per bene. Secondo quanto raccontato da un uomo che ha accompagnato sul posto un'amica intima di Michaela, però, il marito era arrivato da poco e la tormentava per la gelosia. Una versione che resta ancora da verificare, ma che potrebbe essere una pista verosimile. Gli altri residenti del palazzo, infatti, ricordano bene la donna, Michaela Guarille, ma hanno visto poche volte Gabriel Dumitru. Così, la macabra vicenda si tinge di giallo e gli uomini della squadra mobile, coordinati da Carmine Mosca, che per tutta la notte hanno ascoltato diverse persone, tre inquilini dello stabile, amici e parenti delle vittime, stanno cercando di fare chiarezza intorno ai motivi della tragedia. Grazie.